Di fronte a quella grande luce, la voce interiore attraverso Roberta S. guide. Allora, liberatevi da quelle frustrazioni che vi vedono piccoli e limitati e provate a immaginarvi di fronte a quella grande luce che vi appartiene in ogni momento, come foste voi gli artefici stessi di quella luce, perché in un certo senso è anche così, quella luce che vi crea è allo stesso tempo creata da voi, perché fa parte del vostro meccanismo esistenziale e dunque è generata da voi stessi, come voi siete generati da lei.